Gianluca Vinci, perché si candida sindaco di Reggio Emilia? Mi candido a Reggio Emilia perché ormai è ora di cambiare le cose. Qua dopo 70 anni l'economia è ferma, il Comune non risponde più a nessun tipo di stanza dei cittadini. Da quando Del Rio è andata a Roma un anno fa già si faceva poco, non si fa proprio più niente. È ora di dare un nuovo slancio sia all'economia che ormai è corrotta dalle cooperative che sono quasi tutte in concordato preventivo, hanno fatto un buco di oltre un miliardo di euro soltanto nella provincia di Reggio Emilia. Noi vogliamo dare un nuovo rilancio a questa città dando maggiore sicurezza avendo delle ricette economiche diverse da quelle della sinistra e portando un concetto di migrazione che non è quella di prendiamoli tutti dentro.